Estremismo cresciuto nei confini nazionali, così Barack Obama che è tornato a parlare della strage nel Club Gay di Orlando in Florida, in cui sono morte 49 persone, compiuta dal 29enne americano di origine afghane, Omar Maten. Non c'è alcuna prova chiara che il killer sia stato guidato, che abbia fatto parte di un complotto più ampio, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Maten, in una telefonata al 911 prima della carneficina, ha giurato fedeltà all'ISIS e lo Stato Islamico, in un bollettino radio, lo ha definito un soldato del califato.